Sindaco Luciani, si avvicina il momento clou per quanto riguarda il futuro dell'ACA, il 10 ci sarà questa importante assemblea per l'enezione del nuovo amministratore unico? Sì, i sindaci stanno discutendo sull'opportunità di nominare un nuovo vertice per l'ACA. C'è da dire che l'amministratore uscente non ha presentato la sua domanda e quindi nei 21 curriculum che ci sono stati presentati non troviamo il suo. Noi abbiamo già avanzato la nostra proposta, a me piace andare nel merito della questione, chiunque sarà il nuovo presidente, io spero che sia una persona competente e che riesca finalmente a dare una svolta all'ACA che attualmente, l'ho ribadito, l'ho detto più volte, non funziona. È un'azienda, una delle più importanti che abbiamo nel nostro territorio, ha un volume d'affari di 60 milioni di euro, si occupa di acqua potabile ma soprattutto di depurazione, è un tema molto caldo, ho anche, non ho nascosto il fatto che sia giusto in questi temi che intervenga anche il governatore della regione per dare dei buoni consigli perché questa reputo una prassi corretta. La cosa che trovo scorretta invece è parlare politicamente di schieramenti centrodestra, centrosinistra che non interessano i cittadini, sono lontani anni luce dalle problematiche dei cittadini. Noi vogliamo un'ACA che funzioni e faremo di tutto per ottenere un'ACA che funzioni. Luciani, c'è la possibilità di arrivare a queste elezioni con un candidato unico? Ma io allo stato attuale penso che non ci sia questa possibilità e penso che non ci sia questa possibilità perché non c'è chiarezza, non c'è chiarezza da parte di tutti. Io sto auspicando una presa di posizione da parte dei sindaci che si devono occupare dei loro territori. la prima domanda alla quale vorrei rispondessero davanti ai loro cittadini se l'ACA attualmente funziona oppure no. Bene, se la risposta dovesse essere no e dobbiamo dare una svolta dobbiamo prendere una posizione ben precisa.